Le limitazioni e comunque le regole in questo periodo post-Covid sono ancora molto rigide, sia per l'accesso al teatro che quindi per la fruizione degli spettacoli in generale, però io credo che ora, soprattutto andando verso la buona stagione, con tanta attività che si verrà programmata all'aperto, quindi in anfiteatri all'aperto, si riuscirà a ritornare al piacere della musica. Io penso che guardiamo con un certo ottimismo il futuro. Tutto ciò che è legato alla cultura è, vorrei dire, meno tutelato rispetto ad altri settori della comunità, della società, perché comunque gli artisti vivono in questa bolla di bellezza, di contatto con l'arte che a volte fa perdere un po' di vista anche quelli che sono gli aspetti pratici della vita. Però, indubbiamente, c'è stato da parte delle istituzioni, da parte dello Stato, comunque recentemente un buon interesse a sostegno di queste fasce di lavoratori che comunque hanno sofferto moltissimo in questa epoca della pandemia, perché, come dicevo, molti contratti sono contratti a termine, quindi a breve termine, e quindi non c'è la tutela del lavoro, non c'è la tutela dell'impiego, quindi continuativo. È stato un periodo molto duro. Tante le produzioni saltate a causa del Covid, l'ente Concerti Pesaro però è pronto per ripartire. Sì, abbiamo avuto un lunghissimo periodo di natività, siamo pronti per ripartire con una stagione molto bella, con grandi nomi, sempre in linea con quello che è la storia dell'ente Concerti, ossia quella di un ente che dal 1961 opera nel territorio ed è riconosciuto dallo Stato come il soggetto più importante della regione per la programmazione della musica classica e da camera, non della lirica ovviamente, perché per la lirica abbiamo il ROF, abbiamo tante istituzioni che comunque sono importantissime. Ecco, questo è un ruolo che ci siamo in qualche modo, che l'ente Concerti si è saputo meritare e grazie a questa cosa qui, a questo riconoscimento, riusciremo comunque come sempre a programmare una stagione in grado di portare veramente i più grandi artisti del mondo, quelli che calpestano i palcoscenici dei grandi teatri, delle grandi capitali europee del mondo.